Sì, Presidente, grazie. Questo è il secondo ordine del giorno, tema che conosciamo un po' tutti quanti dal 2018. Parliamo della Tumaiella parvicornis, che è appunto la cuciniglia che ha attaccato gli alberi. Ovviamente parliamo di un insetto all'octono del Nord America che, come abbiamo visto, ha avuto un'azione impattante su un gran parte ovviamente del patrimonio arboreo dei pini della nostra città. Un tema che abbiamo seguito attentamente in Commissione Ambiente, insieme alla Commissione, insieme all'assessore Ferini, insieme al consigliere Di Palma, proprio per far luce ovviamente con gli organi competenti. In questo caso parliamo della Regione, parliamo ovviamente anche del Ministero dell'Ambiente, perché ad oggi è aperto un tavolo tecnico per cercare di intervenire su questo fenomeno che sta devastando ovviamente non soltanto la parte della nostra città, ma anche in Europa. Noi abbiamo un patrimonio arboreo, parliamo di pini di 58.000, insomma ovviamente sono quelli di competenza di Roma Capitale, dove comunque è eseguita ad oggi 2.000 interventi, interventi ovviamente riprendendo anche la sperimentazione eseguita da EUR-SPAC con l'Università Federico II tramite ovviamente un prodotto, la Bamectina, che viene somministrato tramite endoterapia. Ecco questo intervento comunque ha portato a dei buoni risultati. Però è ovvio che noi in Commissione Ambiente abbiamo spesso dato degli indirizzi molto chiari, perché mancano degli atti a supporto, come per esempio le linee guida della Regione Lazio, che servono ovviamente per dare degli indirizzi chiari ovviamente sul tipo di attività fitosanitaria da applicare ovviamente su queste piante e poi chiediamo alla Regione di velocizzare in qualche modo questa formulazione delle linee guida e chiediamo anche al Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio, del mare, affinché emani un decreto emergenziale ad hoc proprio per evitare che questa Tomaiella parvicornis, appunto questo insetto, questa cocciglia, intacchi ovviamente i pini di Roma. Ecco noi con le nostre risorse abbiamo svolto degli interventi ottimali tramite il servizio giardini anche con degli accertamenti, degli studi o comunque degli approfondimenti, perché non stiamo ovviamente a guardare, ma è un po' il fenomeno simile a quello ovviamente della Puglia legato agli ulivi, perciò insomma è un fenomeno impattante, un fenomeno devastante che Roma è ovvio da sola non può affrontare, in questo ordine del giorno siamo molto chiari, perciò rapportiamo anche con quegli organi competenti in materia sanitaria che sono appunto la Regione Lazio, ovviamente il Ministero dell'Ambiente, oggi il Ministero della Transizione Ecologica. Questo è un ordine del giorno, spero che venga votato da tutti, un ordine del giorno che comunque rispecchia la volontà della Commissione Ambiente, ripeto, Commissione che abbiamo più volte affrontato insieme al Consiglio di Palma, perciò io mi auguro che venga approvato all'unimità da tutta quanta la maggioranza. Grazie.